Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Qual è la persona più vecchia attualmente sulla Terra? Che puoi dire persona è sbagliato perché tanto è una donna, perché è sempre una donna la persona più vecchia sulla Terra. Inutile dirlo per noi maschietti, ma le donne vivono un po' più a lungo. A volte per motivazioni genetiche, a volte perché noi maschi tendiamo ad ammazzarci in maniera molto stupide, cosa che le donne spesso non fanno. Ad ogni modo, attualmente la donna, la persona più vecchia sulla Terra è Maria Brainas Moreira, spagnola che ha 116 anni, è una manciata, e che nel momento in cui giro questa pillola è la persona più vecchia vivente sulla Terra. E spero, dato che passeranno due settimane e mezzo da quando voi la vedrete, di non portarle male e che lo sia ancora. Non vorrei attivare i miei superpoteri malevoli, come sta succedendo un po' troppo spesso recentemente. Ad ogni modo, come vi dicevo, la nostra ha già un'età che sembra inverosimile, 116 anni. Io ho conosciuto le due persone più anziane che ho conosciuto, e sono una mia prozia, che è mancata 102 anni, peraltro stando assolutamente in perfetta salute, e una signora che ho visitato che di anni ne aveva 105, mancata qualche mese dopo, ma oltre non mi sono mai spinto. Questa donna ne ha 116, cioè 11 anni di più, veramente qualcosa di enorme. Eppure, nonostante questa età abbastanza alta, è comunque ancora molto lontana dalla persona verificata, documenti alla mano, che si è vissuta più a lungo. Cioè una francese, Jeanne Calman, che era nata il 21 febbraio 1875, e che è vissuta per 122 anni, e più o meno un terzo, grosso modo è un terzo. Pensate che è l'unica persona che possa dimostrare di aver vissuto più di 120 anni, cioè la seconda persona dopo di lei ha più di due anni in meno, ha raggiunto più di due anni in meno rispetto a lei, ed era una giapponese. Ora, se andate a cercare su internet, questo record non è proprio riconosciuto da tutti. Un po' perché qualcuno mette in dubbio la storia di Jeanne Calman, ma ne ritorneremo verso la fine, ma soprattutto perché in tanti paesi vengono selezionati altri supercentenari. Quindi l'India ha l'uomo vegetariano, hindu, che sarebbe vissuto più di 130 anni. La Russia ha la nonnina Cecena, che ne avrebbe avuti 125. Ogni stato riconosce un po' il proprio supercentenario, per motivazioni ovviamente nazionalistiche, perché si vuol dimostrare che il sangue della nostra nazione è il migliore, ma senza avere i documenti. Un po' perché nel passato, 140-150 anni fa, la burocrazia non era esattamente come quella attuale, un po' perché a volte l'unico modo che hanno queste persone per dire quale sia la loro età è ricordarlo. Ma forse la memoria di un supercentenario non può essere così perfetta. Ad ogni modo, il Guinness dei primati richiede che ci siano i documenti, quindi ufficialmente Jean Calman è la principale, la donna che si è vissuta più a lungo in ogni tempo. Ad ogni modo, la nostra ha avuto una storia abbastanza particolare. È nata, ve l'ho detto, nel 1875, era figlia di una famiglia abbastanza agiata di Arles, nel sud della Francia, dove peraltro vivrà per tutta la sua lunghissima vita, e fin da giovane grosse preoccupazioni dal punto di vista economico non ne ebbe, non ne ebbe quando viveva in famiglia, non ne ebbe neanche quando a 21 anni si sposò con un cugino. Curiosamente doppio cugino, nel senso che i loro nonni erano fratelli e le loro nonne erano sorelle, cioè due fratelli hanno sposato due sorelle e loro sono frutto di questo incrocio. Un lontano cugino, un cugino di secondo grado, che in qualche modo, un cugino di secondo grado, che anche lui abbastanza ricco, abbastanza agiato, le darà una vita senza grosse preoccupazioni. Chissà che anche questo in qualche modo non spieghi il perché sia diventata così anziana, ma dal punto di vista medico due parole le diremo poi più avanti alla fine. Se era fortunata dal punto di vista personale, lo era un po' meno però dal punto di vista degli affetti, perché la coppia avrà un'unica figlia, Yvonne, che morì a 36 anni a causa di una pleurite, e il marito la lascerà a 73 anni, quando ancora lei era ben lontana da essere alla fine della sua vita, in una maniera purtroppo molto sfortunata. Pensate che venne avvelenato dai noccioli delle ciliegie. Ora non vi spaventate, è vero che non è periodo, ma magari la vedete tra qualche mese, non succede niente a mandar giù un nocciolo intero, ma sarebbe meglio non rompere il nocciolo delle ciliegie e mangiarne il contenuto, perché se uno non dovrebbe farvi nulla, se ne mangiate 5, 6 o 7, rischiate di avvelenarvi. Ed è esattamente quello che è successo a questo poveretto. Ad ogni modo, una volta morto il marito, la donna, che aveva ereditato due appartamenti dello stesso palazzo, uno di fronte all'altro, uno in cui viveva lei, e un altro, in cui viveva invece la figlia, che era già mancata, in cui continuava a vivere il genero e il nipote, Frederick, che intanto era nato, la donna decise di riorganizzare un po' la situazione, anche perché iniziava ad essere abbastanza avanti di età, era necessaria probabilmente una mano, e per questo chiese al genero di trasferirsi da lei, lasciando l'altro appartamento al nipote, che intanto poi era cresciuto, si era sposato e così via. Come vi dicevo, però, negli affetti non fu fortunata, perché nel 1963, prima il genero e poi anche il nipote, che ovviamente era molto più giovane, morirono. Rimasta tutti gli effetti da sola, due anni più tardi, nel 1965, quando di anni ormai ne aveva 90, decise di trovare una soluzione che gli permettesse di vivere gli ultimi anni in maniera serena, e così si accordò con un notaio per vendergli la casa in cambio di un pagamento mensile. In che senso? Beh, fece la vendita della nuda proprietà, cioè cedette la casa al notaio, ottenendone però il permesso di poter continuare a vivere nell'appartamento fino a quando avesse voluto. E il notaio, in cambio, non le avrebbe dato semplicemente il corrispettivo della casa, che era un po' una cifra importante, che era difficile trovare sul mercato in quel momento, ma le avrebbe dato un tot, cioè 2.500 franchi dell'epoca, ogni mese, e continuato a pagarla ogni mese fino a quando la donna non fosse morta, così che avesse una rendita con cui poter vivere. Ora, di base, l'accordo sarebbe potuto essere sensato, l'appartamento valeva molto, ci sarebbero voluti parecchi anni, anche solo per ripagarne la cifra. Quello che ovviamente l'avvocato non sapeva è che lei sarebbe vissuta altri 32 anni. Il notaio, chiedo scusa, sarebbe morto prima di lei, quindi veramente cornuto e mazziato, e la sua famiglia avrebbe dovuto continuare a pagare la donna fino a darle più o meno il corrispettivo del doppio di quanto avrebbe pagato l'appartamento se invece se lo fosse comprato tutto in una volta sola. Come disse la donna, a volte si fanno degli affari molto, molto brutti. Ad ogni modo, Jeanne non continuò a vivere nell'appartamento per tutta la vita. Nel 1985, quando ormai di anni ne aveva 110, e qualcuno iniziava a notare questa sua età decisamente avanzata, si trasferì a vivere in una casa di riposo, e qui rimase fino a morire serenamente a 122 anni. Beh, in questo periodo però continuò ad essere abbastanza attiva. Pensate che a 114 anni venne invitata a recitare in un film, un film che si chiamava Vincent et moi. Un film in cui si racconta di questa ragazzina che, come vi ho raccontato nello short ieri, appassionata di Van Gogh, scopre che un suo dipinto è stato spacciato per essere un vero Van Gogh. Cerca di dimostrare che tutto questo non sia vero e ad un certo punto incontra brevemente, in una casa di riposo, proprio Jean Calman. Perché? Perché Jean Calman, quando era ancora solamente una ragazzina, aveva incontrato proprio il vero Van Gogh, di cui peraltro aveva un ricordo pessimo, dicendo che l'aveva trattata male, e questo ricordo viene raccontato proprio nel corso del film. Ora, sono andato a rivedermi la scena, che dura un minuto e mezzo. Devo essere sincero, la mia impressione è che non avessero spiegato che fosse un film, perché la reazione della donna è molto veritiera, dall'idea di essere una donna che ci sente poco, non vede niente, e che ha un po' perso il contatto con la realtà. Però questa sua partecipazione la rende l'attrice più vecchia ad aver mai recitato in un film. Ed è una piccola curiosità. Come vi dicevo, poi, nel 1997, a 122 anni, la donna si spense, pari in maniera del tutto serena, senza particolari patologie, semplicemente terminò la sua vinta. Da quel momento, il suo record non è mai stato battuto, e come vi dicevo, non è neanche realmente mai stato avvicinato. Il che, qualche anno fa, nel 2018, ha spinto due ricercatori russi a sollevare qualche dubbio sul fatto che veramente questa donna sia vissuta così a lungo, dicendo che quando morì la figlia, quando aveva solamente 36 anni, in realtà ci fosse stato uno scambio di persone. Cioè, la figlia non sarebbe morta, ma sarebbe morta la madre, appunto Jeanne, e la figlia avrebbe iniziato ad interpretarne la parte. Ora, gli studiosi, che ovviamente hanno controllato questi dati, hanno però fatto notare come questa teoria prima non ha nessuna dimostrazione, se non il fatto che la madre e la figlia si assomigliavano, però ovviamente avevano delle età diverse. Secondo, sarebbe un po' inverosimile, perché la donna non viveva in un paesino sperduto in montagna da sola, ma viveva in una città importante, dove era conosciuta, aveva amici, aveva parenti, ed è difficile pensare che nessuno di loro si fosse mai accorto di questa sostituzione. Quindi, insomma, la cosa, ripeto, sembra abbastanza inverosimile, e oggi il suo record è assolutamente confermato. Come ha fatto però arrivare a 122 anni di vita? Beh, è una domanda che ovviamente non è una risposta. Oggi, o meglio da anni, si studiano questi ultracentenari per cercare di scoprire quali sia il loro segreto. Beh, probabilmente Jean di Segreti ne aveva tanti. Innanzitutto un po' di genetica, perché purtroppo non possiamo sapere qualcosa dei suoi successori, perché sono tutti morti giovani per malattie o a causa di incidenti, come è successo al nipote, ma in effetti Jean veniva da una famiglia di persone che già avevano raggiunto età molto elevate, i suoi fratelli, i suoi genitori, molti di loro erano vissuti senza problemi anche oltre i 90 anni, e stiamo parlando del XIX secolo, inizio del XX, quando l'età media era decisamente più bassa, e anche l'età di morte. segno che evidentemente dal punto di vista genetico erano in qualche modo predisposti ad un invecchiamento più lento o semplicemente protetti dalle malattie. Inoltre, e anche questo è tipico di questi supercentenari, sono praticamente arrivati alla morte quasi senza aver patologie, non erano ipertesi, non avevano problemi cardiaci, non avevano quasi nessun tipo di patologie. Certo, alla fine era quasi sorda e quasi cieca, ma questo è dovuto a un invecchiamento del corpo, ma non aveva avuto grossi malanni che l'avevano indebolita. E anche dal punto di vista mentale, pur avendo perso un po' di lucidità negli ultimi anni e aver perso un po' la capacità di registrare nuovi avvenimenti, nuovi ricordi, in realtà è sempre rimasta abbastanza controllata. Questo ovviamente ha voluto dire che ha dovuto prendere meno farmaci, ha continuato ad alimentarsi, a mangiare tutte cose che l'hanno sostenuta. Dal punto di vista alimentare, poi è curioso, perché tante volte si va a chiedere a queste persone, ma lei che cosa mangiava? Come se mangiare fosse qualcosa che può in qualche modo farti diventare ultracentenario. Certo, se uno non si strafoga di dolci da mattino a sera e diventa obeso, in qualche modo questo aiuta, ma non c'è il cibo della longevità. La donna ovviamente aveva una dieta del tutto varia, mangiava carne, pesce, frutta, verdura, senza nessun problema. Pensate che fumava anche, che in realtà anche questo ogni tanto lo si trova sulle notizie. Fumava ed è arrivata a 122 anni. In realtà poi si va a vedere, si scopre che la donna fumava ogni tanto due sigarette al giorno, una dopo pranzo, una dopo cena. Una cosa che le aveva inculcato il marito per farle passare delle micranie che ogni tanto la prendevano. Quindi non si può esattamente dire che sia una fumatrice. Come anche si dice, ah, beveva vino e è arrivata a 122 anni. No, beveva vino ogni tanto, ma non era sicuramente un'alcolizzata. Certo, da qualche parte ho trovato riportato che mangiava un chilo di cioccolato alla settimana, ma la cosa mi sembra un po' in vero, un chilo di cioccolato è tantissimo, cioè la classica tavoletta è un etto, vuol dire mangiarsi più di una tavoletta di cioccolato al giorno, ma l'ho trovato riportato, ve lo riporto. Insomma, il segreto non c'è. Il segreto non c'è. Ha vissuto una vita abbastanza tranquilla, e questo la protetta da alcune cose, ha vissuto una vita in cui forse non ha dovuto lavorare per tanti anni, cosa che ovviamente prova il fisico, aveva un po' di genetica, è stata aiutata dalla fortuna, e alla fine è arrivata a quell'età. Un'età in cui però si arriva, dopo purtroppo aver seppellito figli, nipoti e tanti amici. Ci si ritrova ad avere un record, per carità, ma probabilmente a non poterlo raccontare a nessuno. Ad ogni modo, tanti altri supercentenari sono decisamente più fortunati, vivono circondati da famiglie, e quindi Brindisi lo facciamo a loro, alla loro salute, alla vostra. E a presto!